ragazzi se vogliamo parlare di salute dobbiamo per forza parlare di curcuma questo principio comunemente conosciuto ormai da tutti come la spezia della salute in quanto possiede degli effetti veramente spiccati a livello antiossidante ed antinfiammatorio inoltre è ottima nella fase detox ossia nella fase di purificazione principalmente a livello epatico altra caratteristica molto efficace nell'azione cardioprotettiva quindi per la salute del nostro cuore un solo problema sulla curcuma il problema dell'assimilazione in quanto nella sua forma normale è molto difficile per il nostro organismo riuscire ad assimilarla quindi Yamamoto nutrition ha trovato una soluzione ossia adotta esclusivamente un brevetto molto prestigioso di curcuma che è il brevetto bcm 95 che consente alla forma utilizzata da Yamamoto nutrition di essere assimilabile da parte del nostro corpo fino a sette volte di più rispetto alla curcuma normale anche se abbinata al pepe nero di conseguenza ragazzi se tenete alla vostra salute non potete rinunciare alla curcuma anche se abbinata al pepe nero di più rispetto alla curcuma che non potete rinunciare alla curcuma che non potete rinunciare alla